Le pari opportunità vanno di moda e il gioco di parole che racchiude il nome del nuovo progetto rivolto alle donne bresciane in difficoltà e che grazie alla collaborazione tra Istituto Razzetti di Brescia e la cooperativa sociale AS aiuterà 20 donne nel crearsi una professionalità spendibile nel mondo del lavoro. Noi cerchiamo di sciogliere i nodi che impediscono a queste donne di entrare e poi di mantenere un lavoro che è uno dei problemi che rileviamo quotidianamente. Quindi affianchiamo una parte estrettamente operativa con una parte che è più di presa di visione della storia, di quelle che sono davvero le difficoltà dentro e fuori la famiglia, dentro e fuori il mondo del lavoro, la custodia dei figli, tutto quello che è la conciliazione dei tempi che se è molto complicata per una donna italiana lo è ancora di più per una straniera. Noi ne avremo sia le une che le altre perché i curriculum sono molto misti. Grazie a figure professionali e competenti, le donne, tra cui anche alcuni casi segnalati dai servizi sociali del comune, riceveranno in una prima fase del corso un insegnamento generale sulle tecniche di sartoria. Una seconda fase più specifica sarà invece dedicata a sei donne selezionate, di cui tre avranno la possibilità di essere inserite con un contratto di lavoro all'interno della sartoria in gestione alla cooperativa AS. La nostra cooperativa ha rilevato a settembre del 2010 una sartoria dalla Fondazione Cottinelli in collaborazione con la Congrega della Carità Apostolica di Brescia e pertanto questo progetto è nato proprio dal bisogno di avere personale qualificato, ma anche dal bisogno delle donne di avere un'attività spendibile nel mondo del lavoro tradizionale.